Scale mobili in Minecraft versione numero 1 perché ci sarà anche in un altro video la versione 2 con i nastri trasportatori inclusi Andiamo a vedere come è stato fatto con i command block, i saluti a fine video Allora andiamo a vedere come funziona questo primo esempio di scale mobili in Minecraft Ti dicevo ne ho fatte due versioni ma l'importante è imparare ad utilizzare i command block a secondo delle proprie necessità Ti faccio vedere che quando avanzo e arrivo sulle scale tutto sta funzionando, i command block mi portano in alto e in basso E come vedi il mio personaggio riesce a salire tranquillamente, ci mettiamo anche di spalle, ok così salgo di schiena come vedi Ok, o no aspetta e scendo e scendo anche all'indietro, ok perfetto Tutto sta funzionando andiamo a vedere i command block Allora di questo video ti devi portare a casa almeno due informazioni importanti Innanzitutto ovviamente che le nostre scale mobili possono essere costruite in questa direzione Oppure in questa direzione, o in questa direzione, o in quest'altra direzione In effetti la diagonale ancora non l'hanno inventata in Minecraft Quindi a seconda di come tu la vuoi costruire hai necessità di rilevare che tipo di scala stai utilizzando Io ho utilizzato la Polished Blackstone Stairs e quella di tipo 0 viene orientata in questa posizione Quella di tipo 1 viene orientata in quest'altra posizione Quella di tipo 3 in quest'altra posizione e quella di tipo 2 in quest'altra posizione Quindi Polished Blackstone Stairs Ti faccio vedere che il nostro ascensore è creato in quella situazione, ok, verso quella direzione Quindi io dovrei andare ad utilizzare per esempio set block nelle coordinate che sto inquadrando Che cosa? Polished Blackstone Era, ok Blackstone Underscore Stairs, ok E poi abbiamo detto di tipo 2, ok Quindi quelle scale sono di tipo Polished Blackstone Stairs di tipo 2 Ora andiamo a vedere cosa c'è scritto all'interno di questi Command Block Apriamo il Command Block di tipo Ripetizione che ci porta in alto Ripetizione in condizionale sempre attivo con un ritardo di 3 tick Quindi non ci porta su velocemente, se vuoi farlo più o meno veloce devi interagire su questo valore 5, 6, 7, rallenta la salita 0 è molto veloce Andiamo a vedere esattamente il comando e poi lo andiamo a spiegare nel dettaglio Allora si mette questo Command Block nei panni di qualunque entità che si trova in queste coordinate Ok? Poi andiamo a vedere che cosa significa questa roba qui Ed è il secondo ragionamento che ti devi portare a casa dopo questo video Tutte le entità che si trovano in un certo raggio d'azione sono esattamente Ok? Questo spazio da questo punto Vediamo se da questo punto qua sopra Fino a questo punto qui Ok? Esattamente qua Ok? Da lì all'altro Quindi individua le nostre scale Cosa va a fare? Se c'è qualcuno sulle scale E se sotto di lui a meno 1 Cosa c'è? Il Polished Blackstone Stairs di tipo 2 Abbiamo scoperto perché di tipo 2 Perché sono orientate in quella direzione Se noi le scale le avessimo costruite in un'altra direzione Avremmo dovuto modificare questo valore Tra 1, 3 e 4 Ok? Il nostro è il 2 Cosa succede? Allora teletrasporta se stesso Quindi l'entità che sta sulle scale In alto sicuramente E poi con un valore positivo verso destra Ok? Ora ti faccio vedere perché ho messo questo Uno in questo punto E non per esempio in quest'altro Eventualmente vai per tentativi Ma ti dirò perché devi utilizzare questo qui Come si fa? Ti faccio prima vedere come individuare Diciamo là Il valore di queste coordinate Quindi 3, 4, 7 4, meno 66 Andiamo a scoprire perché c'è quel valore Allora io ho detto che Quelle, diciamo, questo blocco qui È individuato In verità sono le Questo blocco che sto inquadrando Quello delle scale Ok? Quelle scale sono individuate Da queste esatte coordinate 347, 4, meno 66 Poi dico di avanzare di 1 Andare in alto di 6 E a destra di 6 Come faccio a dare quei valori? Ok? Qua mi sono preso questi binari Ti faccio vedere che se io anche guardando in un'altra posizione Creo una sorta di croce 1, 2, 3, 4 e 5 Ok? No, ho sbagliato Devo creare prima queste E poi al centro Ok? Vedo che si dispongono in questo modo Sempre in un modo unico Quindi 1, 2, 3, 4 e poi 5 Ok? Cosa mi fa Cosa mi indica questo? Questa posizione mi dice che di qua crescono le x E a destra crescono le z Il valore più basso della costruzione che voglio andare a individuare Mi servono due punti per individuare la costruzione Questo e quell'altro Avrei potuto anche dire che mi serviva questo e quest'altro I due bianchi individuano la stessa porzione di spazio Ok? Quando io invece vado a utilizzare questa soluzione Rispetto alla costruzione che sto individuando Alla zona che voglio individuare Identifico in maniera univoca Che il punto più indietro e più a sinistra di questa costruzione È esattamente questo Ok? Quindi individuo il punto più basso e più a sinistra A partire da quello dico Ok, come faccio a raggiungere quel punto lì in alto? È semplice In questo caso conto e faccio 1, 2, 3, 4, 5 Sono andato 6 blocchi a destra E in questo caso, visto che siamo anche in diagonale 6 blocchi in alto Ok? Poi, siccome dobbiamo andare anche Rispetto a questa posizione Anche un blocco avanti Ok? In avanti Per beccare quella posizione Tutti i valori che sto utilizzando Proprio perché sono partito da quel punto più in basso A sinistra sono tutti i valori positivi La x deve andare 1 in avanti Le y 6 in alto E a destra 6 a destra Ok? Perché dico a destra? Perché ho capito che la posizione Che va a destra Che avanza è questa E me l'hanno detto esattamente I binari I binari ci aiutano anche a giustificare Del perché io mi sono fatto Teletrasportare Di 1 a destra Perché? Perché la mia direzione di avanzamento È esattamente quello Delle z Ok? Io devo andare verso destra Perché? Perché Questo è il punto Così vado avanti E così vado a destra Come vedrai poi Quando dobbiamo scendere Noi dovremo andare a sinistra Ok? Quindi se di qua noi facciamo Più 1 Più 1 Più 1 Per andare a sinistra Devo fare Meno 1 Meno 1 Meno 1 E ovviamente per salire Faccio più 1 Più 1 Più 1 Quando devo scendere Meno 1 Meno 1 Meno 1 Vediamo infatti adesso Cosa abbiamo scritto All'interno di questo command block Sempre di tipo ripetizione Incondizionale Sempre attivo Ritardo di 3 tick Ok? Ovviamente le coordinate di partenza Sono differenti 354 4 Meno 66 Che identificano In maniera unifoga Esattamente questo blocco Che sto inquadrando Ok? Poi A partire da quello Cosa facciamo? Ehm Un blocco in avanti 6 in alto 6 a destra Perché fondamentalmente La struttura è la stessa Però guarda cosa succede qui Ok? Quindi detect Sempre la stessa cosa Il teletrasporto Del giocatore Che sta esattamente In quella zona delle scale Ok? Avviene in basso E verso sinistra Meno 1 Perché? Perché i nostri Binari Ci hanno detto Che se io vado Voglio andare verso di qua Ok? Devo scendere Devo andare verso di là Ok? Devo andare In una direzione Meno 1 Ok? Ecco perché Il valore Che abbiamo utilizzato qua È meno 1 Per andare a sinistra E meno 1 Per andare in basso Quella che hai visto oggi È una soluzione Relativamente semplice Quella che vedremo In un altro video Come vedi qua Ci sono dei altri Common block Che sono disattivati Diciamo È più facile Da un certo punto di vista È più complesso Perché richiede È più common block Prima dei saluti Ti ricordo Che abbiamo creato Un server discord E stiamo ultimando Il server minecraft Attraverso il quale Avvieremo contest Di costruzione E giveaway Come quelli Che realizzo Per le scuole italiane Ma riservato Alla community Del nostro canale A scuola con minecraft Il link del server discord Lo trovo in descrizione Comincia ad agganciarti Per rimanere informato Sulle prossime novità Quindi Mi raccomando Iscriviti E fai iscriviti Soprattutto i tuoi amici Al server discord E qui sul canale Qualcuno Ha cominciato anche A caricare Le proprie creazioni Che come vedi Condivido con piacere Detto questo Commenta E metti mi piace al video Ma solo se ti è piaciuto Infine Dai un'occhiata A queste playlist Che ti suggerisco Mentre saluto Gabriele Marco Pirco Ita39 Dragon Gabriele E Leo Che mi hanno chiesto Di essere salutati E lo sto facendo In questo momento Ciao 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 Grazie a tutti